Ciao e bentornato di nuovo sul mio canale, io sono Marco, prima di cominciare, sigla! Ok, visto che ti sei guardato la sigletta, iscriviti, attiva la campanella, seguimi sui miei canali social e niente, anche se ti va ad andare sul canale tiktok, scusa twitch, sbaglio, perché tiktok si fa sempre un casino che non avete idea seguire i canali social è impegnativo effettivamente, io non è che sia molto molto partecipe ai canali social ricondivido un po' di cose, magari metto delle novità e quant'altro, benissimo chiusa la parentesi, come puoi vedere c'è un bellissimo sfondo, questa è una delle mie altre passioni prima o poi aprirò un secondo canale dove racconto un po' a... parlo anche di cose, sono le cose che mi piacciono oltre alla musica e a quello che faccio come i mixaggi e le masterizzazioni detto questo, è un video che non ho ancora affrontato sul mio canale ed è strano, perché in fondo parlando di home recording ho dimenticato, ma non per cattiveria o per cosa, però non ho pensato di fare un video sulle schede audio per iniziare a impostare il tuo home recording studio ho fatto un video che puoi trovare nelle playlist sui miei suggerimenti fra un mixer digitale o una scheda audio ho fatto delle live anche con degli amici in cui parlavamo di prodotti e quant'altro ma un video in cui mi soffermavo a parlarti di 4-5 prodotti interessanti per aprire e iniziare a lavorare nel tuo home studio non l'avevo ancora fatto, quindi recupero in questo momento quindi andiamo a tirare sulla schermata ho aperto un sito qualunque come può essere quello italiano di strumenti musicali però potevo anche aprire un amazon o quant'altro e quindi ho aperto strumentimusicali.net uno dei tanti, scegliete quello che volete, io vi metterò eventualmente dei link in descrizione o comunque li trovate, dei vari prodotti quindi, come vedi, la prima che compare è la Behringer UMC22 questa scheda audio che io ho ancora, tuttora, è stata la prima scheda audio con cui ho iniziato a fare nuovi video sul mio canale YouTube tengo a precisare che non è che avevo solo quella no, io in realtà ho un banco della Presonus e adesso anche l'antelope è discreto 4 quindi, però, quando è iniziato il lockdown quindi ti racconto questa cosa qua mi metto in posizione anche, tutto sommato, comoda quando è iniziato il lockdown a marzo dell'allora ancora 2020, adesso siamo in 2021 mi serviva una schedina la prima che ho trovato, che ho provato a prendere perché effettivamente è la più economica che ho trovato sul mercato è questa Behringer qua la, come ho detto, la UMC22 è una schedina piccola, molto piccola si alimenta con l'USB i pre non sono malaccio non suonano male comunque sono di quello che è un loro brand che è la Midas e ha semplicemente il controllo di gain hai l'ingresso di microfonico o l'ingresso instrument per i due canali come puoi vedere c'è un canale c'è un canale dedicato sia a jack che si chiama TRS questo tipo di connettore che è instrument e poi decidi qua i livelli di gain hai il monitor direct per vedere la come riascoltarlo hai un la Phantom la Phantom ti faccio vedere si accende da dietro due uscite quindi semplicissima base non zero fronzoli piccolina sta benissimo anche sulla scrivania non ti ingombra e quindi questa può essere l'alternativa più piccola che c'è al momento sul secondo me sul mercato più interessante poi saliamo leggermente di step andiamo su Focusrite Scarlett 2.2 io quando avevo nel negozio ne vendevo di queste schede perché comunque si vendono ancora è un prodotto interessante anche qua abbiamo due ingressi microfonici sia di strumento che microfono hai la Phantom frontale il direct monitoring il volume e il volume cuffia separato è un prodotto che va benissimo niente cioè niente di cui strapparsi i capelli diciamo che Focusrite è un po' quello che viene considerato tra virgolette uno standard nell'home recording quindi questa potrebbe essere una valida alternativa saliamo un pochettino di fascia andiamo su Moto M2 qui andiamo su M2 M4 io con Moto ho lavorato tanto ho ancora due schede audio della moto in studio una è una 828 MK2 e l'altra è un convertitore 24io non le sto con la verità più utilizzando perché la 24io aveva bisogno della PCI Express da inserire dentro per farla funzionale perché aveva il DSP dentro la scheda la 20 l'altra è una Firewire ormai i Firewire li hanno abbandonati quasi tutti allora quando l'ho comprata ti parlo di 12 anni più di 12 anni fa diciamo che Firewire era uno standard per quelle schede audio meglio dell'USB perché era molto più veloce e stressava meno gli hard disk ora con l'avvento dell'USB2 USB3 USB-C non c'è più bisogno del protocollo Firewire sono diciamo che la tendenza ormai è passare su quell'altro quell'altro protocollo quindi con Moto io come ti ho detto mi sono sempre trovato bene qua la cosa interessante è che hai anche il MIDI in e il MIDI out non mi ricordo se anche Focusrite lo mette a disposizione no lo mette su quelle superiori come pensavo qui hai in out hai USB-C in questo caso qui hai due monitor le uscite le puoi fare sia in jack che in RC quindi se acquisti per esempio delle casse che hanno l'ingresso ci sono delle casse economiche piccoline o anche non economiche piccoline che prevedono l'uscita RC quindi con questo puoi pilotarli tutte e due tranquillamente qui vedi tutta la dotazione interessante il led frontale te lo zoom dove vedi sia gli ingressi e gli usciti livelli questa è una cosa molto utile che non hanno se non mi ricordo male effettivamente non hanno né la Beringa la Beringa era il clipping quindi ti dice quando sta clippando idem con idem la Focusrite diciamo che c'è un salto di un po' di soldini perché qui stiamo più o meno sui 199 euro ora i prezzi teneteli indicativi non è assolutamente da tenere in considerazione il prezzo questo è quello che sto trovando adesso poi se lo trovate meno ben venga per voi tutto di guadagnato poi saliamo ancora andiamo su Audient ID14 che come puoi notare qui non disponibile perché ti spiego perché sta uscendo la versione aggiornata ora io ti ho portato la versione vecchia però tienila presente perché sta uscendo la versione nuova e questa è una scheda audio che io ho conosciuto ho provato con grazie a la Leading Technologies che è l'importatore italiano che me la fate provare cosa abbiamo molto interessante a mio giudizio quindi la spesa è un pochettino più alta come vedi sono andato a cercare prodotti che fossero dal più economico fino a un massimo di 200 250 euro non sono andato oltre poi come sempre puoi salire e andare a spendere di più tranquillamente cosa interessante questa qui ci sono degli ottimi pre che hanno degli ottimi convertitori hanno dei pre fatti molto molto bene e soprattutto questa vedi i due pre qua gli ingressi le uscite ma c'è questa parte qui che è molto molto interessante perché mi soffermo qua perché è l'unica se non mi ricordo male ma credo di non sbagliarmi è l'unica su questa fascia di prezzo che ti permette di avere l'optical in se sto dimenticandone una che fa questo lavoro qui scrivila nei commenti posso sbagliare anche io posso dimenticarmele non sono come si dice non sono perfetto quindi però ci tengo a precisare che questa scheda ha la possibilità di essere allargata come ingressi quindi oggi comperi la Audient ID 14 vai a prendere questa scheda audio e ti accorgi che ti servono degli altri canali ti piace questa scheda benissimo non devi venderla prendi un preco gli ADAT lo colleghi e la scheda audio può passare per dire da 8 a da 2 a 10 10 canali quindi puoi già fare una batteria tanto per intenderci quindi tienila ad occhio secondo me è un prodottino molto interessante altro prodotto che io conosco molto bene chi segue il mio canale sa che ne parlo sempre molto bene ed è la SSL2 dell'azienda inglese qui in questo momento attualmente lo vedo in offerta a 199 comunque costa mass 229 siamo all'incirca siamo come la l'audient io mi trovo bene ha dei bei pre non è piccolissima abbastanza grande cosa comoda è che auto autoalimentata dall'USB ti danno il doppio cavo USB USB quindi puoi scegliere te hai l'uscita left e right e hai 2 e 2 pre al suo interno buoni con vabbè poi c'è la funzione 4k che dovrebbe essere il pre un pochettino più più bello più high definition come dicono loro cosa interessante è anche su questa qui che loro ti danno anche dei plugin a corredo della loro serie SSL native di cui ho iniziato a parlare su questo canale specialmente di quello per la voce fino a dicembre davano anche degli omaggi penso che acquistandolo ancora adesso magari più avanti facciano di nuovo questi omaggi comunque 2 plugin 2 o 3 plugin mi sembra che li hai a corredo della SSL più ci sono delle cose in in aggiunta quando ti la registri perché va registrata sul sito detto questo ti ho fatto una breve panoramica sono le mie 5 schede audio da home recording preferite non le ho messe in ordine di preferenza nel senso che questa è la migliore questa è la migliore questa è la migliore le ho messe in ordine di prezzo quindi valuta tu il budget che vuoi spendere per acquistare una scheda audio quindi se ti è piaciuto questo video magari non ti è piaciuto e può capitare ripeto non posso piacere a tutti iscriviti al canale attiva la campanella seguimi sui miei canali social e nei commenti dimmi quale scheda audio usi per il tuo home recording studio ci vediamo al prossimo video e grazie ancora ciao